E adesso le altre notizie di oggi con Costanza Miriano. Perché questo posto è così preso d'assalto? Perché basta tutto nevole. Che cosa tutto? Ciocchini. Eh? Ciocchini. L'anno scorso anche il GT Ragazzi lo aveva dimostrato con questo servizio girato di notte sulle strade di Roma. E oggi un'indagine della DOXA lo conferma. I ragazzi iniziano a bere sempre prima. Già a 14 anni cominciano con il primo bicchiere e provano, lo ammettono loro, per moda, per essere alla pari con gli altri, non per il gusto di bere bene, ma per sballare, dimenticando che questa diventa facilmente un'abitudine e molto pericolosa.